E due cose mi sono rimaste particolarmente impresse. Una, sentivo una cosa tipo ricorda chi sei, ed è quasi un po' imbarazzante perché vedevo figure angeliche, quindi sono rimasta così, no? Cosa è di questo tipo? E mi sentivo, probabilmente non sono mai stata nella mia vita in una situazione così, non so, mi vengo da dire così spirituale, così. E l'altro messaggio che ho ricevuto era anche, va bene anche ricevere, penso in relazione alla ricchezza, all'avere, ed è stato veramente bello. Adesso mi sento molto diversa rispetto all'inizio, diciamo, proprio un altro stato, completamente diverso. Grazie.